Gli italiani non vanno più a votare, l'affluenza alle urne nelle regionali dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria sono state le più basse mai viste. In Emilia-Romagna non ha votato neanche un elettore su due, 20% in meno di votanti rispetto a quattro anni fa. E ancora una volta in tutto il talk show si dice che gli italiani non vanno più a votare, l'affluenza alle urne è bassissima. Benissimo, ma cosa facciamo per portare gli italiani a votare? Cosa stiamo facendo per invogliare i giovani a votare e interessarsi in un'elezione regionale importante che neanche un elettore su due vada a votare è davvero brutto? Però la colpa è della politica, dobbiamo noi interrogarci su cosa fare e dobbiamo avvicinare i cittadini alla politica e alle urne. Non certo allontanarli con scandali o con provvedimenti inutili che vanno contro gli interessi dei cittadini. Pensiamoci e lavoriamoci insieme perché votare è stato un diritto conquistato con il sudore e con il sangue e dobbiamo sempre onorarlo.